Buon pomeriggio a tutti. È un piacere per me porgere un saluto in apertura di questa iniziativa che è stata organizzata dalla Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. Saluto gli ospiti, gli illustri relatori nazionali e internazionali, i docenti, gli studenti, tutti coloro che seguiranno questi due giorni di seminario che è dedicato alla scuola e che si svolge in streaming, una modalità di contatto che ormai ci è divenuta familiare negli ultimi tempi. La pandemia che ci è piombata addosso in questo anno difficile ci ha costretti a sostituire gran parte della didattica in presenza con quella a distanza. Voi docenti, voi studenti, le vostre famiglie vi siete dovuti attrezzare in tempi rapidi, avete dovuto fare uno sforzo straordinario del quale siamo consapevoli e per il quale vi ringraziamo perché grazie a questo sforzo siete riusciti a mantenere vivo il filo diretto con la scuola. La didattica a distanza si è rivelata una grande risorsa in momenti di forte criticità, è innegabile, ma oggi il nostro obiettivo resta quello di poter far entrare a scuola in sicurezza i ragazzi e le ragazze. E da parte del Governo vi assicuro il massimo impegno per raggiungere questo risultato il prima possibile. Il valore di vivere, anzi di condividere, la scuola insieme agli insegnanti e compagni resta insostituibile. La scuola può grandi cose. I docenti hanno un ruolo fondamentale insieme alla famiglia, possono seminare quei valori che nei ragazzi germoglieranno fino a renderli adulti, sani, forti, consapevoli. A scuola si radicano quei principi capaci di combattere mali di cui troppo spesso sentiamo parlare. Femminicidio, bullismo, mafie. Una scuola sana, con docenti preparati, con strumenti adeguati rappresenta la migliore via per sconfiggere ogni deformazione, ogni distorsione. Lo scrittore siciliano Gesualdo Bufalino, dopo la morte di Falcone Borsellino, a chi li chiedeva come si sarebbe potuta sconfiggere la mafia, rispondeva in modo semplice. La mafia sarà sconfitta da un esercito di maestre di scuola elementare. Lui, che per una vita aveva fatto l'insegnante, era ben consapevole del fatto che la scuola rappresenta una insostituibile ancora di sicurezza. Perché la scuola assolva questo compito fondamentale, oggi più che mai è necessario ripensare l'educazione, come recita il titolo di questo ciclo di appuntamenti dedicati al presente e al futuro del mondo dell'istruzione. La scuola deve reinventarsi, deve fare questo sforzo e reinventare anche il modo per far appassionare i giovani. Perché, come ha scritto anche Umberto Galimberti, gli adolescenti vivono l'età per cui l'unica cosa che conta è l'amore. E se gli adolescenti si occupano dell'amore, bisogna andargli a cercare là. In altre parole, fagli appassionare alla scuola. Occorre investire sulla scuola più di quanto sia stato fatto in questi anni, anzi negli ultimi decenni. Ne siamo consapevoli. Ma anche per questa ragione abbiamo deciso di destinare una parte delle risorse che arriveranno in Italia dal recovery plan per modernizzare la scuola, renderla più attrattiva, prestando attenzione tra l'altro al risanamento strutturale degli edifici scolastici, al loro efficientamento energetico, alla creazione di un sistema permanente di sviluppo delle competenze digitali e anche alla formazione, all'aggiornamento continuo di dirigenti, docenti, personali scolastico, che sono la colonna sulla quale va costruita ed edificata la scuola. Non esiste, a nostro avviso, un investimento più proficuo di questo, un migliore moltiplicatore di valore. Buon lavoro quindi alla Ministra, ai ragazzi, alle ragazze, agli esperti che si confronteranno in questi giorni per tracciare un quadro della scuola di oggi e discutere della scuola del futuro, che abbiamo iniziato tutti insieme a disegnare.